Il 9 e 10 novembre tornano le giornate di sensibilizzazione sul diabete e in previsione dell'appuntamento emergono dati allarmanti per Piacenza. Secondo l'Associazione Autonoma Diabetici Piacentini, nella nostra città 7100 persone hanno il diabete e circa 2100 non lo sanno. In provincia i casi di diabete sono probabilmente 20.000. Questi dati che si ottengono proiettando nella nostra area le percentuali stimate per la regione Emilia-Romagna. Solo due terzi, forse metà dei casi di diabete sono diagnosticati. Il loro numero è in crescita a causa della sedentarietà, dell'obesità, della cattiva alimentazione e forse dell'inquinamento, così come per l'aumento del numero di persone anziane nella popolazione emiliana. Nei circa 60 eventi che saranno organizzati in Emilia-Romagna, l'elenco lo trovate nel sito www.giornatadeldiabete.it e sul sito www.liberta.it, i cittadini saranno invitati a firmare una cartolina che sarà poi consegnata all'assessore regionale alla salute. Grazie a tutti.